Potrebbe essere arrivata al mese della resa dei conti la telenovela delle cantiere dell'ex consorzio agrario. Area del porto di Pesaro dove nei progetti pianificati dovevano sorgere due torri da 84 appartamenti destinati a modificare radicalmente la fisionomia della porta d'ingresso di Pesaro all'Adriatico voltando pagina sul rudere del consorzio abbattuto nel novembre del 2020 dopo anni di progressivo decadimento. Rigenerazione urbana che però si è incagliata 11 mesi fa ovvero quando l'indagine della procura della repubblica su sollecitazione della capitaneria di porto di Pesaro sollevò dubbi sulla legittimità dei permessi di costruzione su quell'area di un complesso edilizio non destinato a finalità prettamente portuali. Permessi che furono rilasciati dal comune di Pesaro nel 2018. Lo scorso febbraio è così scattato l'incidente probatorio con approfondimenti sull'interpretazione del piano regolatore che hanno messo sotto indagine tre tecnici del progetto. Indagine che ora sembra arrivata agli atti finali e nel caso dovesse produrre il rinvio a giudizio dei tre indagati si materializzerebbe anche il tramonto definitivo del cantiere con una richiesta di risarcimento danni milionaria di fronte a 84 appartamenti mai realizzati e sui quali c'erano già prenotazioni e impegni d'acquisto. Valutazioni che stanno facendo il gruppo di investitori israeliani che assieme all'azienda Renko detengono la titolarità dell'edificazione. Una telenovela sulla quale trappelano anche eventuali effetti collaterali perché il gruppo di intervento edilizio era in procinto anche di rilevare l'area dell'ex bramante il largo Aldo Moro ma ora diventa pressoché inevitabile il no all'impegno di riqualificazione. Allo stesso modo sembra già sfumato il ventilato impegno della Renko all'ex convento delle suore di via Guidi dove era in ballo una riconversione della struttura in una trentina di appartamenti.